Le conclusioni a cui stai arrivando sono quelle che penso io. Non posso fargli una cosa del genere. Brooke e il bambino sono di vitale importanza per lui. Ecco, tiene a quella famiglia come... come... come ha sempre tenuto alla nostra. Lo conosci? Sì, è fatto così. La famiglia è sempre stata la forza che anima ogni sua azione. E adesso che cosa conti di fare? Sono confuso, disorientato. Devo scegliere tra la mia felicità e la felicità di papà. La vita a volte è così complicata. Un tempo avevo tutto. Avevo chevole. Lei era il mio mondo. Ma mi ha lasciato e tutto è cambiato. riuscirò mai a provare la stessa felicità con un'altra donna. Come sarebbe stata la nostra vita se non fosse morta? come sarebbe stata? Come sarebbe stata. Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti